Sono già 60 solo in provincia di Torino le aziende col diretti che hanno deciso di intraprendere pratiche di agricoltura sociale, ovvero di coinvolgere nella produzione agricola della nostra regione gli immigrati, disoccupati e chi è rimasto fuori dal sistema statale del welfare, oppure di mettere l'agricoltura al servizio delle fasce più deboli della popolazione, i bambini, i malati, le donne. Si tratta in realtà di un ritorno alle origini del valore che il sistema rurale aveva nella società contadina, riscoprendo una vocazione di accoglienza e protezione che torna attuale in questi tempi di crisi. Questo tipo di iniziative può dare un'opportunità alle imprese agricole, ma soprattutto un'opportunità forte al territorio, soprattutto in un momento come questo, che con la crisi che stiamo vivendo, che è economica, ma anche crisi di welfare, far crisi di possibilità di avere uno stato sociale per tutti, veramente, e in tutti i territori, anche quelli più lontani dalle città, l'agricoltura sociale può essere una risposta. Coldiretti sta sviluppando il suo percorso di agricoltura sociale attorno a tre principali filoni. Il primo opera nei servizi per la qualità della vita. Il progetto delle Agritate, per esempio, porta l'educazione in un contesto rurale, anche nei territori a bassa densità di popolazione, dove i servizi sociali sono carenti. Il secondo percorso promuove l'inclusione sociale lavorativa. Il più recente inserimento di donne vittime di tratta ha portato a tre assunzioni che tuttora continuano. Il terzo percorso opera nel settore della riabilitazione e cura, in collaborazione con le ASLI, SERT e i consorsi, a favore dei minori e dei disabili. L'agricoltura quindi si mette al servizio dello Stato, in un momento in cui lo Stato non riesce a far fronte a tutti i bisogni della popolazione. In cambio, Coldiretti chiede che il nuovo governo prenda in considerazione il decalogo L'Italia che vogliamo, un elenco delle necessità più stringenti della categoria. Coldiretti con il suo documento L'Italia che vogliamo non ha chiesto soldi allo Stato. Ha chiesto soprattutto il coraggio di prendere decisioni utili, a fare in modo che l'agricoltura e l'agroalimentare possano veramente rappresentare un momento di rilancio per tutto il Paese. Coldiretti vorrebbe che lo Stato si impegnasse a promuovere non solo il benessere in senso economico, ma anche in quello sociale ed ambientale.